1982, fino a che punto la dipendenza da droghe può essere ritenuta la colpevole di crimini così terribili tanto da portarvi a distruggere la vostra intera famiglia e le vite di molte altre persone all'interno del vostro condominio? Oggi affronteremo il caso di Hashida Takaki, una delle pagine più oscure della storia della cronaca giapponese. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. Il caso di cui parleremo oggi ci porterà di nuovo in Giappone e anche questa volta l'ho potuto realizzare grazie all'aiuto di Claudia del canale Rome Tokyo One Way. Questo caso è avvenuto nel 1982, per l'esattezza, il 7 di febbraio, a Osaka nel quartiere di Nishinari. Questo caso vedrà protagonista un tossicodipendente che, sotto l'effetto di queste sostanze, finirà per far fuori 4 persone e ne ferirà 3 in maniera grave, proprio nel condominio dove lui abitava. Immaginatevi che questo criminale, tale Hashida Takaki, ha commesso tutti questi crimini nell'arco di soli 20 minuti. Dalla prima uccisione, infatti, fino al suo arresto, sono solamente passate queste poche decine di minuti. Hashida aveva una seria dipendenza, che nel tempo lo avevano portato ad avere delle allucinazioni visive e uditive, che tra l'altro riuscivano a perdurare anche per giorni. Takaki aveva anche un forte complesso di persecuzione. Infatti, aveva questo odio per i suoi vicini di casa, che lo disturbavano quando facevano rumore. E allo stesso tempo pensava che costoro volessero cacciarlo dall'appartamento dove lui viveva, al punto che lui diceva continuamente che in quel condominio tutti erano suoi nemici. Hashida, che all'epoca dei fatti aveva 47 anni, non solo soffriva di queste allucinazioni dovuti alle effetti collaterali che queste sostanze contenevano, ma aveva anche una pancreatite cronica per via della quale non poteva lavorare. E per questo motivo lui era completamente dipendente dalle entrate che portava a casa la moglie. E proprio per questo motivo in questa coppia spesso scoppiavano dei litigi, oltre al fatto, come abbiamo già detto, che lui facesse uso di stupefacenti. Dalla stanza di Hashida si sentivano sempre delle voci come dei lamenti rabbiosi, e come potrete immaginare i vicini hanno iniziato a essere piuttosto ansiosi e impauriti da questo suo comportamento. E per questo motivo hanno pensato bene di andare dalla polizia per chiedere appunto consiglio. Alla polizia hanno riferito di pensare di avere a che fare con un drogato. Tuttavia la polizia sembra prendere sotto gamba queste informazioni e dicono Eh, si tratta di litigi tra marito e moglie, è normale, non deve per forza esserci qualcosa, e se avete bisogno contattateci. E qua questa questione mi fa veramente arrabbiare, perché se solo la polizia avesse fatto il proprio dovere, tutto ciò si sarebbe potuto evitare. Spostiamoci adesso a quel fattidico giorno, 7 febbraio del 1982. La causa scatenante è stata che nel dormiveglia Hashida ha aperto gli occhi quando gli è sembrato di sentire la parola cassetta di registrazione. Quindi lui ha pensato che quella registrazione altro non fosse che la sua voce di quella dei vicini che lo avevano precedentemente importunato. Magari avrà pensato che lo hanno registrato apposta per poi portare queste prove alla polizia. Tuttavia questo nastro non esisteva, era tutto frutto della sua fantasia. Convinto che però tutto ciò fosse reale, lui inizia disperatamente a cercarla senza successo. A un certo punto lui andrà dalla moglie e le chiede dove ha messo quella cassetta. Lei gli risponde, dovrei saperlo? Anche alquanto seccata da tutto ciò. A questo punto a Hashida viene l'idea che la moglie avesse dato la cassetta a qualcuno, magari proprio a quei vicini che tanto lo odiavano. Hashida era convinto che la moglie stesse mentendo e quindi, irritato da tutto ciò, sceglie di ucciderla. Prende quindi il coltello da sushi con la lama da 20 centimetri e inizia a colpire la moglie sul seno, sulle braccia, sulle cosce. E dopodiché, quando il figlio sente le urla della madre, va a vedere che cosa stava succedendo. E a quel punto Hashida inizia anche ad accoltellare il proprio figlio. Esce dall'appartamento e la sua violenza non si ferma. Anzi, il nuovo bersaglio della sua rabbia si dirige agli altri residenti, che secondo lui stavano per buttarlo fuori da casa. A questo punto, sceglie di entrare nella casa dei vicini, che erano una coppia, un marito di 34 anni, operaio edile, e la moglie di 47 anni. Vengono attaccati da Hashida con il coltello, loro cercano di scappare, riescono ad uscire dalla stanza, Hashida però continuerà a rincorrerli. Tuttavia, a un certo punto gli mancherà il fiato. Sceglie quindi di lasciar stare. E la sfortuna ha voluto che sul pianerottoro del primo piano ci fosse un altro ragazzo che viveva in quel condominio. Un ragazzo di soli 34 anni. La furia di Hashida ha finito per colpirlo più volte al torso e sulle braccia. E purtroppo, questo giovane uomo perderà la vita in ospedale. Durante questa notte, anche la moglie di Hashida ha perso la vita, mentre il figlio si è salvato. Tuttavia, ha subito delle lesioni molto gravi e ha dovuto passare svariate settimane in ospedale. Dopo aver fatto fuori comunque questo uomo di 34 anni, Hashida scenderà al piano terra. E lì vedrà una ragazza che stava salutando il padre proprio sull'entrata. Questa ragazza si trova davanti a Hashida e successivamente la pugnalerà. La ragazza inizierà a gridare. E il padre, che aveva 56 anni, correrà subito in suo soccorso. Come vi dicevo, l'aveva appena salutata. Tuttavia, verrà subito colpito al petto da Hashida, perforandogli il polmone. A questo punto, Hashida scapperà verso la zona dei negozi. Tuttavia, il padre della ragazza, benché fosse stato pugnalato proprio al polmone, continuerà a inseguirlo, fino allo stremo delle sue forze. Finirà però per collassare sulla strada, dove perderà la vita, dissanguato. Nel mentre, la polizia, che era stata avvisata in precedenza, è riuscito a bloccare Hashida nel quartiere, appunto, dei negozi. Questi tre poliziotti, immaginatevi, che lo hanno fermato con ancora il coltello in mano e i vestiti ricoperti di sangue. Come avete capito, quindi, questo uomo, in una ventina di minuti, ha fatto fuori quattro persone e tre le ha gravemente ferite. Praticamente, lui ha fatto fuori la moglie, il figlio lo ha ferito gravemente, poi l'operaio Edile ha perso la vita, la moglie di quest'operaio. Anche lei, purtroppo, morirà una volta arrivata in ospedale. Poi, quel ragazzo che era sul pianerottolo, che anche lui è morto in ospedale. La ragazza, quella al piano terra, invece, si salverà, tuttavia morirà il padre. Hashida verrà processato due anni dopo lo svolgersi di questi fatti, esattamente il 20 di aprile del 1984. Verrà condannato all'ergastolo. Come potrete immaginare, in molti si aspettavano che gli sarebbe stata data la pena di morte. Insomma, ha fatto comunque fuori quattro persone e ne ha ferite gravemente altre tre. Vi potrete immaginare come anche la gente era molto arrabbiata. Tuttavia, il tribunale ha scelto di non dare a questo uomo la pena di morte, dal momento che è stata presa in considerazione la diminuita capacità mentale dovuta appunto all'uso di stupefacenti. In realtà, però, oltre agli atti che ha compiuto, vi era anche un altro motivo per il quale Hashida era così odiato e così mal visto dall'opinione pubblica. Il motivo era il fatto che non fosse la prima volta che era stato arrestato. Infatti, aveva già avuto altri problemi con la giustizia fin da quando andava a scuola. Hashida, infatti, appena entrato alle medie, già era un ragazzo che effettuava minacce e anche frodi ed era stato preso in custodia protettiva innumerevoli volte. Quindi, potete capire come era un minore molto problematico. Dopo essersi diplomato alle medie, questo ragazzo non proseguirà gli studi. Sceglierà di iscriversi a una scuola di formazione professionale. Tuttavia, dopo soli tre mesi, l'abbandona e si unirà a un gruppo di teppisti. Una volta unitosi a questo gruppo, ha iniziato a provare per la prima volta la droga e a poco a poco è diventato un dipendente di queste sostanze. Dal momento che non lavorava, tuttavia, per riuscire a pagare questa droga, rubava dei soldi e gioielli dalla sua casa e quindi dai genitori per potersela procurare. I genitori, come potrete immaginare, hanno provato in più occasioni a farlo smettere, cercando anche di convincerlo a cambiare vita. Tuttavia, nessuno di questo tentativo fu un successo. Hashida è stato ben sei volte nel carcere minorile e tre volte in riformatorio. Tentava di smettere, ma poi ci ricadeva subito dopo. E ha continuato a ripetere questa storia fino al 1969, quando incontra quella che un giorno sarebbe diventata sua moglie. Hashida ha incontrato questa donna in un locale dove lei lavorava come hostess. Nel 1970 nascerà il loro figlio, tuttavia, anche se aveva un figlio ed era sposato, non gli è bastato davvero per cambiargli la vita. Anzi, per procurarsi la droga, ha praticamente costretto la moglie a prostituirsi. La moglie, all'inizio, si era rifiutata e si era fortemente opposta. Tuttavia, lui non sentiva ragioni. È diventato addirittura violento con lei. E per questo motivo, questa povera donna ha dovuto piegarsi ai suoi voleri. Inoltre, Hashida andrà anche a trovare i genitori. Dirà loro di non drogarsi più, che voleva mettersi la testa a posto, come i genitori gli avevano sempre detto. E inoltre, ha detto loro che si era sposato e che ora aveva un bambino. Ha chiesto quindi aiuto a loro per poter avere dei soldi, per poter iniziare una propria attività, per poi sostenere anche la propria famiglia. I genitori, che avevano più volte provato a farlo smettere di drogarsi, quando hanno sentito questo, erano estremamente felici. Potrete immaginare l'emozione magari che dei genitori potrebbero provare in una situazione come questa. Anche la gioia è di avere un nipote. Per questo motivo, il padre darà a suo figlio la proprietà della casa e tutti i suoi risparmi. Hashida prende il tutto ed in nascosto venderà quella casa. E con i soldi andrà purtroppo a comprarsi la droga. Quando il padre viene a sapere che aveva perso la casa e i risparmi di una vita, ha avuto un crollo nervoso ed è stato ricoverato in un ospedale psichiatrico, dove dopo poco morirà. Immaginatevi che triste che deve essere stata la sua vita, cioè con un figlio che sceglie una strada così, diciamo, oscura, se vogliamo. Cioè io posso veramente capire lo shock che deve aver avuto questo padre. In ogni caso, Hashida, con tutta questa cospicua, insomma, di denaro, riesce a procurarsi una certa quantità di droga di cui potrà farne uso per gli anni a venire e finirà per diventarne completamente dipendente. Nel 1975, parzialmente incapace di intendere di volere, accoltella la moglie, sempre quella che poi, anni dopo, farà fuori. Hashida verrà processato anche qui e condannato a tre anni di galera per tentato omicidio. La moglie, immaginatevi che sperava che dopo questo periodo in prigione appunto di tre anni uscisse disintossicato e anche riabilitato, ha visto i suoi sogni completamente infranti perché, come uscirà di galera, inizierà subito a drogarsi di nuovo e continuerà per altri sette anni fino a quel fatidico giorno del 1982. Io non riesco a capire come la moglie sia riuscita a rimanere con un uomo che in precedenza l'ha coltellata, cioè veramente assurdo, un uomo che vi è anche costretto a dare il vostro corpo a por di poter guadagnare altri soldi per comprarsi la droga. Quando è stato arrestato diversi poliziotti sono rimasti completamente stupefatti dallo stato e dalla quantità di buchi che aveva sulle braccia. Questo è un caso vecchio, diciamo, è successo quasi appunto 40 anni fa. Tuttavia, questo era anche un po' per portare alla luce dei problemi che ci sono stati anche nella società giapponese per quanto riguarda l'uso di droghe e le tossicodipendenze. Infatti, proprio tra gli anni 70 e 80 è stata definita la, se vogliamo, seconda generazione di tossicodipendenti. Appunto perché subito dopo la guerra c'era stato un periodo di persone che erano finite per diventare tossicodipendenti e successivamente si è riripetuto questo fenomeno anche poi dopo negli anni 70 e 80. Tanto che ci sono stati una serie di fatti di cronaca, furti, incidenti, eccetera eccetera proprio legati all'uso di queste sostanze. Il governo aveva anche tentato di fare una specie di pubblicità progresso e appunto per la droga ed era uno slogan di questo tipo smetti di utilizzare le droghe o smetti di essere una persona oppure potrebbe anche essere tradotto come abbandoni la droga o abbandoni l'umanità. Purtroppo vi erano tanti drogati anche non solo tra i membri delle organizzazioni criminali ma anche tra la gente comune e soprattutto tra i giovani stava diventando un vero e proprio problema sociale e nel 1981 gli arresti legati alla droga sono stati ben 22.000 e nell'82 più di 23.000. So che questi numeri magari potrebbero far schizzare l'occhio se paragonati ai numeri che avevamo in Italia quindi anche fare un paragone tra l'Italia e magari il Giappone può essere un pochino azzardato. tuttavia ovviamente i problemi che magari avevamo negli anni 70 non sono paragonabili a quelli di adesso cioè la situazione è molto più controllata. Io spero che questo video vi sia stato utile spero anche di aver portato questo nuovo lato del Giappone infatti spesso mi viene chiesto com'è la situazione delle droghe dei narcotici comunque in Giappone e non ho mai fatto un video al riguardo ma penso che questo caso sia un po' l'emblema di tutta questa situazione un po' sono riuscito anche a ripercorrere questa storia ringrazio anche Claudia per averne parlato perché è un caso veramente interessante e anche di attualità secondo me so che spesso quando si parla di Giappone si tende a vederlo un po' come il paese dove nessuno si lamenta dove è tutto perfetto e ovviamente tante cose funzionano molto bene in Giappone però anche qui ci possono essere gli scioperi ci sono stati anche le movimenti studenteschi eccetera eccetera che magari le affronterò in un altro video dal momento che questo canale adesso tratta di crime se dovessi parlare di uno di questi diciamo aspetti del Giappone cercherò di legarli a un caso comunque di cronaca nera in ogni caso spero che questo video vi abbia potuto dare una piccola infarinatura di tutto quello che è successo io vi ringrazio davvero tantissimo per esservi visti questo video spero rivedervi anche al prossimo un ciao da seguire ciao